Benvenuti nel mio canale di cucina. La ricetta di oggi è una torta salata a svuoto aprivo. Ingredienti pasta sfoglia rotonda, cime di rapa, uova, prosciutto cotto, parmigiano reggiano, il formaggio brie e 5-6 pomodori ciliegini. Rompete due uova e aggiungete un pizzico di sale e 30 grammi di parmigiano grattugiato. Ora prendete una pasta sfoglia rotonda, bucatela con una forchetta, dopodiché adagiate 250 grammi di cime di rapa che avete precedentemente sbollentato. Poi unite l'uovo sbattuto con il parmigiano grattugiato. Poi aggiungete 100 grammi di prosciutto cotto. Io ho usato il prosciutto cotto tagliato da Dini. Ora aggiungete 150 grammi di formaggio brie. Ultimate decorando la torta salata con 5 o 6 pomodorini ciliegini tagliati a metà. Dopodiché cuocete la torta salata a 200 gradi a forno caldo statico per 30 minuti. Trascorso questo tempo, ecco voi la torta salata appena sfornata. Vi ringrazio per aver visto il video. Se vi è piaciuta la ricetta mettete un like. Vi aspetto alla mia prossima ricetta. Ciao ciao da Gian.